15 associazioni coinvolte tra laboratori, sport, cinema e arte, naturalmente un'area sportiva attiva tutto il giorno. La bellezza che genera benessere nel Summer Camp Digital Life Fest, la cui prima edizione in programma a Grottaglie dal 15 al 20 luglio. Riuscire a creare integrazione tra soggetti disabili con problematiche di varia natura e la comunità in generale, la comunità di Grottaglie e dei paesi limitrofi. Attraverso cosa? Attraverso strumenti digitali, perché il digitale può essere un utilissimo strumento per creare soluzioni a dei problemi della comunità. Offrire spazi di aggregazione in cui coinvolgere principalmente ragazzi che desiderano entrare in contatto con un modello educativo che non deve basarsi solo sull'acquisizione di competenze e conoscenze tecniche, ma che punta a garantire la promozione dello sviluppo. Il digitale rappresenta una grande opportunità di realizzazione, di emancipazione, di miglioramento della società e quando si parla di miglioramento sia individuale che di società sicuramente anche poi l'inclusione viene da sé. Consentono a tutti di stare insieme, di poter crescere e ovviamente un grazie a dottoressa D'Urso che è una grande organizzatrice, oltre che una leader per i ragazzi.